Eccoci qua, buonasera. Questa sera in agenda c'è un tema particolarmente importante perché riguarda tutti, visto che riguarda la salute. Un udinese su due naviga su internet per ottenere informazioni cliniche. Spesso c'è l'autosomministrazione di farmaci acquistati magari su internet. C'è tutto un mondo che ha cominciato a fare il fai-da-te medico. Per cui ci sono bufale, ci sono rischi, ci sono informazioni errate, forse ci sono anche informazioni vere ma bisogna saperle trovare. Ne parliamo questa sera con una serie di persone particolarmente indicate, nel senso che sono esperti assolutamente in materia. E direi di cominciare con una scheda per aggiornarvi sullo stato dell'arte. Spesso è la cronaca a fornire spunti importanti mentre è in corso la preparazione di un appuntamento settimanale. Ebbene, un paio di giorni fa, Tullio Simoncini, ex medico catanese, è stato condannato a 5 anni e mezzo per aver curato il tumore con il bicarbonato. Ascoltiamo quel che diceva. Perché con il bicarbonato, in 5-6 giorni, evidentemente ripetuti, quasi sempre distrugge masse molto grandi. Perché dice il bicarbonato, se arriviamo bene, in 5-6 giorni logra distruire massas incluso molto grandi, eventualmente ripetirlo. È come l'acqua calda sul ghiaccio. È un po' come parlare dell'acqua caliente che cae sull'hielo. Radiato dall'ordine, esercitava a Tirana, in Albania. Nel 2012 morì un 27enne di Catania che si era sottoposto alla sua cura. Il breve filmato, che avete appena visto, era stato visualizzato, quando l'aviamo scaricato, 267.568 volte su YouTube. Da qui allora può partire la riflessione che vi propone l'agenda di questa sera. Come interviene il dottor Google, o meglio, come ci cambia la rete, il web, nei confronti della nostra conoscenza e della nostra percezione della salute? Lo screenshot che vedete porta un esempio di quello che è stato il dibattito sui social a seguito della condanna del medico. Sottolineo soltanto questo passaggio. Simoncini ha curato centinaia, forse migliaia, di malati di cancro. Imputare una morte al bicarbonato in Dovena mi sembra pretestuoso. A parte il fatto che chi ha il cancro spesso muore di suo. E ancora, un morto su cui specula tutto il sistema contro i milioni della chemio. Ma questa è la punta dell'iceberg. Il fenomeno della salute fai da te è ormai generalizzato. Per piccoli o grandi problemi di salute si informano su internet 15 milioni di italiani. Al farmacista chiedono l'UMI 17 milioni di italiani. Al medico, nonostante tutto, 28 milioni. Il 53,5%. Inoltre, il 36,9% dei ragazzi nati tra gli anni 80 e 90 fa autodiagnosi. E se nel 2017 8,8 milioni di italiani ha avuto informazioni sbagliate, una relazione con il ricorso continuo e acritico alla rete c'è. E ha effetti a larghissimo raggio. Sulla rete si trova il veleno di scorpione che cura il cancro, la dieta delle banane. C'è chi ne ha mangiate anche 51 in un giorno. Ma si trovano dibattiti stucchevoli che nulla hanno il scientifico. I forum in cui verificare insieme ad altri il proprio stato di salute. Per poi presentarsi dal farmacista a chiedere un farmaco solo perché non si è riusciti ad acquistarlo in rete. Dottor, professor, truffatore, imbroglione. Per non parlare dei dispositivi medici e delle diete. Dei vaccini parleremo nel corso della trasmissione. Dei vaccini parleremo nel corso della puntata. E qui abbiamo Ambra Federigo, che è mamma no vax, regista, che però ha un percorso, mi diceva, completamente diverso. Nel senso che lei, a dimostrazione del fatto che appunto sto per annunciare, lei ha studiato, letto, si è informata, la conoscenza è la sua arma più importante. Parto da lei per fare l'onore di casa. Grazie. Allora, non mi sento di dire no vax, non perché abbia intenzione di utilizzare i vaccini con le mie bimbe, anzi noi. Guardi la telecamera. Visto che è stata anche a piazza pulita dovevano dirglielo là. Ma io infatti guardavo i protagonisti, erano loro piazzati diversamente. Comunque, non sono no vax, non perché intenda utilizzare la vaccinazione per le mie bimbe, io e mio marito chiaramente perché poi si è in due, ma proprio perché ritengo che la personalizzazione della cura sia doverosa per qualsiasi famiglia. Secondo me è fondamentale ricordarci che la prima causa di morte in America è per patologie iatrogene, ovvero errori medici e per effetti collaterali e reazioni avverse dovute da farmaci. Quindi secondo me non è qua un problema semplicemente di uso e abuso di internet, ma semplicemente un uso e abuso di farmaci che vengono spacciati come se fossero delle noccioline. Benissimo, si fermi. Era soltanto per presentarla. Paolo Pecile, pediatra, medico. Di questo ex medico cosa pensa? Tutto il male è possibile? Preferisco non dire quello che penso. Ma il bicarbonato che effetti ha? Beh, ma l'avete sentita questa intervista, è veramente il trionfo dell'irrazionale, è uno stregone questo qua, non ha detto nulla di scientifico, non ha dato nessuna evidenza, nessuna evidenza che queste cose facciano bene. Poi i social, sai, i social. 270.000 visualizzazioni qua. Sono 270.000 persone che hanno per 30 secondi sentito dire che il bicarbonato fa bene alla cura del cancro. Sì, ma siccome io ho molta stima delle persone di cultura che hanno studiato, Umberto Eco diceva che i social hanno dato diritto di parola ad una legione di imbecilli. Questo significa che non ha nessuna importanza quante persone seguono o approvano un'idea. Bisogna vedere se questa idea e se questa cosa è stata dimostrata. Bene, bene. Qui abbiamo Giuliano Bettella del CICAP. Buonasera. Cos'è il CICAP? Il CICAP è un'associazione che esiste da circa 30 anni ed è nata proprio perché osservava una presenza molto importante nella vita, nella cultura, nei media in particolare, di affermazioni strampalate, inverosimili, a cui però le persone credevano. E quindi si è passati inizialmente da quello che poteva essere la telepatia, telecinesi, passare oltre i muri per vedere il futuro. Poi sono venuti fuori gli UFO, le medicine alternative, giocare al lotto, la magia... Non convenzionale. Sì, sì, non convenzionale, la magia commerciale, giocare al lotto, i tarocchi. E adesso negli ultimi anni invece forse sono più diffuse, più pericolose le teorie del complotto. Quindi i complotti dei poteri forti che indurrebbero delle credenze che vanno contrastate. Quindi il complotto dell'11 settembre. Quindi ci occupiamo più di questo. Quindi nel corso dei 30 anni abbiamo un po' cambiato il nostro target. Qual è il carburante che alimenta tutta questa disinformazione? Ma il carburante... ci sono, diciamo, tanti motori diversi. Se uno guarda la disinformazione, per esempio quella che vediamo sui social, nei web, è vero che hanno dato, diceva Umberto Eco, le giorni di imbecilli. Ma a volte più che imbecilli, sono persone, a volte anche colte, anche istruite, però molto convinte, molto schierate ideologicamente, politicamente, che usano i social per fare pubblicità alle loro idee e per attaccare le istituzioni, la scienza, che sarebbero quelli... Poi c'è anche il sensazionalismo. Più grossa la spari, più è facile che qualcuno ti clicchi sul sito e ci sono meccanismi perversi, che si chiamano clickbait, che più clicchi e più soldi prendi, quindi il sensazionalismo. Poi anche le burle, a volte burle clamorose, che però qualcuno prende per buone. Hanno scritto per far ridere e qualcuno pensa che siano vere. E quindi tutti questi motori, assieme, fanno la disinformazione. Ho capito. Francesco Pascolini, il dottor Pascolini, è presidente di Federpharma. La questione della farmacia è abbastanza... perché siete sulla linea del fronte, mi pare, no? Abbiamo visto che si rivolgono al farmacista moltissime persone per avere informazioni sul proprio stato di saluto in fondo. Com'è cambiato l'utente della farmacia, se è cambiato dopo l'avvento dei social e del web in generale? Per quello che riguarda il normale approccio con la farmacia, direi no, non è cambiato assolutamente. Molto probabilmente sono cambiati gli approcci all'acquisto di farmaci, questo sì, perché evidentemente il web ha offerto la opportunità a più di qualcuno di poter acquistare farmaci che andrebbero esitati esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica liberamente. E questo evidentemente ha in qualche maniera... Ma l'è mai capitato qualcuno che ha detto io ho fatto un forum, mio cugino ha detto che va bene questa medicina, mia zia ha detto questo, è il mio compagno di scuola, non l'è ancora capitato questo? No, allora, capita sicuramente, certo è che se si va a verificare tra i cosiddetti internauti, il 25% di questi ha acquistato, ovvero ha consigliato di acquistare farmaci sul web. Questa è una percentuale che dovrebbe in qualche maniera allarmare... Ma perché non serve la ricetta? O perché è convinto della bontà della scelta? Allora, esiste un decreto legislativo che è il 17 del 2014 che autorizza alla vendita di SOP e OTC, cioè specialità senza obbligo prescrittivo e i cosiddetti farmaci da banco, attraverso il web esclusivamente, attraverso dei siti certificati dal Ministero. Per quello che riguarda i farmaci che hanno obbligo di ricetta medica, questi non possono essere venduti attraverso il web. Punto. Il professor Vincenzo Della Mea è docente di informatica all'Università di Udine, è docente di informatica medica all'Università di Udine, facoltà di medicina e chirurgia, è professore associato di sistemi di elaborazione delle informazioni. Credo di aver detto quasi tutto, se non che è anche un poeta. Ma questo lo lascio, stasera non è in quella veste. Lei come vede lo scenario? Perché fuori onda, le avevo detto, ma lei è abbastanza possibilista su quanto può dare il web rispetto al mondo delle bufale e al mondo della disinformazione? Può dare rispetto all'informazione sanitaria individuale, nel senso che non abbiamo solo bufale su internet, si trova tanta informazione utile anche a livello di documentazione sulle medicine che poi possiamo liberamente comprare. Per cui c'è il parere del farmacista, però magari cerco di capire anche per conto mio che cosa sto prendendo. Insomma, non è necessariamente solo fonte di problemi. Chiaro che capire se l'informazione a cui stiamo accedendo è corretta, è supportata da evidenze scientifiche, non è diventata obsoleta nel frattempo perché il web ha una memoria lunghissima e se non c'è una data, non so, potrebbe essere stata scritta nel 93, diciamo, grosso modo. Questo diventa un problema. Un problema che più o meno alle origini del web era stato più o meno affrontato con delle specie di bollini che erano dei codici di autoregolamentazione tuttora esistenti e tuttora consigliati anche dalle linee guida applicative degli articoli sull'informazione sanitaria del codice deontologico degli ordini dei medici che più o meno cercavano di indirizzare chi fornisce informazioni sanitarie verso un modo etico di fornirle. Modo etico che prevede la prova, la prova scientifica, per cui l'utente deve essere predisposto a considerare come prova per esempio il link a un articolo scientifico serio che descrive perché un determinato trattamento... Nel rapporto con la scienza normalmente non è che sia così friendly... Esatto, poi c'è chi invece questo non lo accetta ed è una categoria di utenti che è nata dopo. E poi ci sono gli algoritmi che ti dicono quel che vuoi sentire. E poi ci sono gli algoritmi che non parliamo più avanti. Silvana Cremaschi, in veste di psichiatra questa sera. Benissimo. La domanda è questa. È solo tecnologia o stiamo cambiando nel profondo? È una cosa che chiedo anche a un'intervista che ho fatto. Da psichiatra cosa sta succedendo? No, infatti io sentendo prima gli interventi, dicevo forse l'intervento da fare questa sera è proprio su perché c'è una prevalenza di pensiero magico. Il CICAM non ci crede mai la telepatia. La telepatia ha funzionato. Perché c'è una prevalenza di pensiero magico rispetto a un pensiero razionale. E io credo che nei momenti della maggiore insicurezza o quando le prospettive davanti a noi ci mettono in dubbio tutto quanto, allora nascono le teorie del complotto, quello che ci raccontano è tutto falso, è tutto finto, non è vero, e io devo andare da solo a cercare altre cose un po' magiche, tipo questa del decarbonato. Ma una battuta che mi veniva a fare prima è che immaginate uno che va a cercare su internet come si costruisce un ponte e poi dice all'ingegnere, no scusi, lei gli dice che bisogna fare queste cose. Ma io penso che invece del cemento armato potremmo mettere un'altra cosa. Ci sembra assurdo, irrazionale. Perché invece quando si parla del corpo, della salute, del benessere, della malattia, siamo così propensi a cercare un fai da te o a cercare delle informazioni che esulino da quelle della scienza. È più una domanda che una risposta. No, ma lo psichiatra dovrebbe saperlo. Gli psichiatri sono quelli che fanno le domande, non sono quelli che fanno le risposte. Ho capito, ho capito. Lei è andata su internet a cercare, o ha letto libri per costruire un ponte. No, credo che la cosa non sia paragonabile. Sono io lei, vero? Lei è sì. Se vuole lo del Tuma. No, no, sì, magari, volentieri. Allora, in realtà il mio percorso è completamente diverso. Io nasco completamente pro-vax, a scatola chiusa. Una madre nasce con un figlio, quindi non avevo nessuna veleità in campo della medicina prima di avere i miei bambini, perché io nasco regista, quindi questo è il mio mestiere base, diciamo. Ma quando poi diventi madre ti rendi conto che le competenze che devi acquisire sono anche nel campo dell'ingegneria, perché vi sfido ad aprire un passeggino quando non hai tutte le istruzioni, quindi parliamone. Ma in realtà il primo approccio è stato con un testo, perché io avrei vaccinato anche per l'aria che respiravano, perché io ci credevo, ci credevo solidamente alla vaccinazione, perché credevo in quello che mi dicevano, credevano al medico che me l'aveva detto, un medico che tuttora rispetto, però a tutto un tratto ti rendi conto che devi fare di distinguo fra la persona e le informazioni che ti vengono date. Il primo testo che mi è stato consegnato, anzi consigliato e conquistato io via internet, è stato le vaccinazioni pediatriche del dottor Roberto Gava, un libercolo di 630 pagine. Radiato o sbaglio? Infatti questa è la cosa folle, secondo me. È proprio il fatto che è un medico che ha parlato di personalizzazione della cura da sempre e quindi il fatto che si sia arrivati a uno scientismo anziché alla scienza mi ha molto colpito, perché all'inizio volevo sbugiardare ogni testo, ogni pagina di quel testo, perché io volevo quella prevenzione, quella protezione. Quando sei madre non vuoi pensare di mettere il figlio in un mondo cattivo e avere questa teoria di complotido, perché sennò non mettiamo in un figlio. Chiaramente vuoi che il mondo lo accolga e speri in un suo futuro, che quando tu non ci sarai più, un mondo buono e giusto, questo è quello che vuoi, quello a cui aspiri e quindi non puoi credere che ci sia qualcuno che lo voglia ledere, non è possibile e quindi in più la protezione, stai cosa? Un'ora al massimo tra andare alla ASL, farti la vaccinazione, uscire e hai il patentino del buon cittadino e del genitore perfetto con la protezione nei confronti delle peggiori patologie al mondo. Che senso avrebbe? Lei sa che devono parlare tutti quanti, no? Sì, scusi. Allora, a questo punto, poi magari diamo un po' di repliche alle cose che ha detto, perché quando ha detto Gava ho visto un attimo di... un lieve sussulto. È uno dei, chiaramente. Poi ho intervistato anche altri scienziati. È uno dei. Abbiamo ascoltato 4-5 persone, giusto per capire come funziona. Secondo me la realtà è un po' diversa da quelle che ci raccontiamo o che leggiamo, però insomma, vediamo, sono testimonianze di giovani. Prego. Alla ricerca di risposte sotto il profilo medico-sanitario ti rivolgi al web o dal medico? Beh, solitamente da mia madre che dopo mi porto dal medico. Il web preferisco evitarlo. Anche tra i tuoi amici, tra i conoscenti, è così? C'è qualcuno che si fida di internet? Cioè, cercano su internet per curiosità, ma di solito nessuno si fida. Dei miei amici. E quindi meglio dal medico? Sì, certamente. Quando hai qualche problema a quesito medico ti rivolgi a internet o dal medico? Io vado su internet. Che cosa cerchi in particolare? Eh, quello che mi serve, il problema che ho. Ti fidi, insomma, di quello che leggi e poi trovi? Sì, diciamo che prima vedo un attimo lì, poi se è qualcosa di serio in caso mi rivolgo a qualcun altro. Anche per te così? Io generalmente no, magari mi rivolgo ai miei genitori, che sicuramente secondo me ne sanno di più e poi casomai vado dal medico, insomma. Per te trovi risposte interessanti quando ti rivolgi al web? Normalmente sì. Che cosa cerchi in particolare? Di tutto, dalla febbre, sul raffreddore, tutto, insomma. Le risposte che trovi ti soddisfano? Normalmente sì, sì, devo dire di sì. Però quando hai qualcosa di grave poi c'è il medico? Sì, vado al medico di base, se è proprio grave in ospedale. E tra i tuoi compagni vi comportate più o meno così? Non lo so. Tanti comunque si rivolgono a internet? Sì, 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 questo sì. Alla ricerca di soluzioni, problemi sanitari sul web oppure dal medico? Dal medico, assolutamente. Come mai? Non ti fidi del web? No, è pericoloso più che altro perché non sapendo che cosa effettivamente si ha, si rischia di creare diagnosi immaginarie e quindi medico. Anche tra i tuoi amici, tra i tuoi conoscenti è così? Sì, per la maggior parte delle persone che conosco io sì. Poi ci sono quelli che si rivolgono al web ma in realtà poi sbagliano ogni volta e quindi si agitano per nulla. Diciamo che la realtà è sempre un po' più variegata, un po' più forse confortante rispetto al dibattito corrente. Paolo Pecile, come sono cambiati gli utenti? No, prima volevo aggiungere qualche cosa riguardo alle vaccinazioni perché io sono pediatra. Sì. Sono pediatra e direi ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo ancora parlando? Anche i politici parlano di vaccinazione, ma di che cosa parliamo? È stato il più grande successo dell'umanità la vaccinazione e di che cosa stiamo ancora parlando? Ci si dimentica che è una scelta di sanità pubblica, che nel mondo non muoiono milioni di bambini perché vengono vaccinati dal morbillo, che molte malattie infettive non ci sono più, che Paolo Pecile 30 anni fa vedeva le encefaliti dal morbillo e non ci sono più, che Paolo Pecile faceva 10 lombari l'anno alle meningite che non si vedono più. Ma di che cosa stiamo parlando? Delle sue sensazioni o di un problema di sanità pubblica? Basta, basta, bonde, bonde, basta parlare di vaccinazioni. Sono interlocuzioni che non hanno senso perché parliamo cose talmente su piani diversi, con linguaggi talmente diversi che non ci si incontrerà mai, mai, punto. Poi rispondo alla sua domanda. No, forse la signora che avvicina a fianco magari... E poi dico un'altra cosa. Per quanto riguarda il mio osservatorio, io lavoro in un osservatorio speciale, in un osservatorio in cui c'è un rapporto di fiducia vero e in cui le madri mi dicono, dottore, o sei là su internet, c'è Pensial. A me piace così, a me piace questo perché hanno stabilito qual è la giusta, non perché sono io, ma la giusta fonte di informazione e io le insegno anche, come diceva il collega qua vicino, a scegliere le fonti perché, voglio dire, le fonti sono fondamentali e internet dà veramente tante informazioni. L'importante è andarle a cercare veramente. Io ho avuto pochi problemi dal punto di vista dell'informazione perché effettivamente le persone mi chiedono, vanno su internet, ma mi chiedono se effettivamente le cose sono giuste. E io gli faccio capire che dipende dalle fonti, dalla cultura che hai e dalle conoscenze e che non sempre 300.000 followers stabiliscono una verità. Dice che la scienza non è... non si vota... non si vota... non si vota... prego... Allora, sono d'accordo su quasi tutto, su quasi tutto. Forché sulla premessa? Forché sulla premessa. Ritengo fondamentale ribadire che la scienza si fa su studi scientifici. Il fatto che adesso vengono... e vorrei anche ribadire che il ministro della salute che ha portato in essere questa legge, la legge 110, è un ministro che non ha una laurea in medicina e che dice che il tetano è contagioso. Quindi, almeno io avrei preferito avere un'obiezione, scusi un attimo, un'obiezione da parte della classe medica, almeno per ribadire i concetti scientifici che ci stanno alla base. In più, sarebbe bello avere uno studio scientifico sulle 10 vaccinazioni inoculate, contemporaneamente a un bambino. Non esiste, quindi questo vuol dire che siamo in fase di sperimentazione. Questa è una cosa che deve essere detta alla popolazione. Il fatto che poi ci sia... si parla dell'effetto greggio, giusto? Questo è il concetto dell'effetto greggio. Benissimo. Il fatto che in Mongolia ci fosse stata un'epidemia, dopo essere stata dichiarata morbillo free, nel 2013, nel 2014, nel 2015, tra 35.000 e 25.000 soggetti, in una popolazione di 4 milioni di abitanti, io ritengo che l'effetto greggio sia un qualcosa da riconsiderare. In più, considerando che il vaccino si sta occupando di prevenzione, prevenzione non è uno stato di premalattia, la prevenzione è uno stato, considera, soggetti in stato di salute. Quindi non è un soggetto che deve venire dal medico nel momento in cui è una patologia. Ci sono stati dei soggetti sani che sono stati appuntati come dei premalati, che devono adoperare dei farmaci che, come tutti i farmaci, hanno degli effetti collaterali della razione avversa importante, tra cui anche la morte. Bene, anche la morte. Sì, però, no, scusate, perché qui bisogna veramente pesare le parole. Allora, il Ministro della Sanità non è tenuto a conoscere la scienza delle vaccinazioni, perché ha i suoi tecnici dietro, primo. Secondo, non è vero che vengono somministrati dieci vaccini contemporaneamente, perché è un falso, non è vero. Terzo, è stata fatta una legge perché c'è stata un'emergenza, punto. C'è stata un'emergenza. Potremmo parlarne fino domani mattina, ma io non voglio cominciare nessuno, perché io seguo le evidenze, altri seguono le sensazioni. Benissimo, professor Della Mea? Sì, a questo proposito, c'è un ricercatore italiano dell'IMT di Lucca che si occupa dei meccanismi di diffusione dell'informazione errata su social media che nel suo ultimo lavoro è andato a valutare l'effetto del cosiddetto debunking, ovvero dei tentativi di demistificare, sostanzialmente non serve a niente. Cioè, tipicamente, mi spiace dirlo perché anche io mi piace sulla pagina del CICAP, però quello che fa il CICAP, che fa Burioni, purtroppo non serve a convincere le persone che meriterebbero di essere convinte, perché di fatto sono argomenti che servono a chi è già più o meno d'accordo. Per cui, quello che suggerisce Walter Quattrociocchi, che è appunto questo ricercatore, il suo gruppo, è che prima di tutto questo c'è bisogno di nuovo di una forma di educazione che comprenda anche la logica e, secondo me, anche la statistica, perché non siamo in grado di distinguere l'episodio individuale, l'esperienza singola, da quello che succede in una popolazione, per esempio. C'è bisogno di questo e anche di una fiducia da ricostruire. Ecco, su quello magari riprendiamo dopo la pubblicità.